Ciao a tutti ragazzi, sono Pedro e oggi sono qua su Far Cry 3 a fare un video solo ed esclusivamente per Atrus Network E niente, siamo qua a giocare una partita multiplayer, ho preso il cecchino, è la mia seconda partita che faccio in multiplayer Ecco, come subito è arrivata la mia morte e niente, continuo ancora, sono sempre qua Eeeh, non mi va, vabbè, eeeh, niente, lanciamo una morte E' altro, vabbè Eeeh, beh, che dire, il gioco è abbastanza fluido, non ho riscontrato problemi di lag, nonostante la mia connessione è abbastanza pessima in questi, questi giochi Eeeh, niente, oddio Eeeh, io non premo mai il tasto, eeeh, lo premevo le prime partite, poi ho detto, no, basta Cioè, è inutile, se la squadra non vuole reanimarti, c'è poco da Da tentare la Eeeh, la venuta del messia, allora ragazzi, niente, continuiamo la nostra partita Eeeh, qua c'è un punza di nemico, esatto Ok, alla testa, siamo con un cecchino, faccio meglio dei cecchini Infatti, adesso prossimamente, provo a crearmi una classe tutta miestra quando si muore Eeeh, niente, provo un po' a vedere le armi, magari faccio qualche partitella, ci passo qualche oretta Questa settimana che sono abbastanza libero, da mercoledì, farò anche altri video sul mio canale Shark Game Channel Vi invito anche ad iscrivervi, se vi piacciono i video E il mio modo di fare, ovviamente, accetto le critiche, i commenti e tutto quanto Perché, comunque, come ho già detto nei video precedenti O forse, vabbè, voi non direi, avete visti Ho iniziato da poco, no, questa, questa avventura su YouTube E anche nel campo del video editing E quindi, eeeh, sono le prime armi Eeeh, niente, ragazzi, non so che dire Eeeh, io continuo a parlare Non so se vi piace Eeeh, niente Voglio dirvi che, vabbè, c'ho un po' di amici che hanno questo gioco Se voi lo avete, potete Niente, mi contate te, mi mandate Un messaggio sul canale Eeeh, io vi aggiungo, no Ci mettiamo d'accordo, magari su play Di software, il software che Ci permette di giocare Oppure, non so Da qualche parte ci mettiamo in contatto E facciamo una partita all'assieme Magari facciamo Io ho anche un server DS E quindi possiamo andare lì a parlare Non ci sono problemi per me Intanto per divertirci un po' Far, sai, qualche avventura Vabbè Eeeh, niente, sto giocando abbastanza male Eeeh, non so il perché Ma comunque Siamo più o meno equilibrati Diciamo, mancano 6 minuti Eeeh, i team Stanno Stanno Andando abbastanza Equilibrati, diciamo Kill la uno, kill l'altro Ragazzi, questa kill qua è epica È colpa colpa È proprio epica Ma donna Eeeh, niente Continuiamo qua, andiamo a esplorare una zona dove Sembra non esserci nessuno Ma arrivano delle, degli spari Eeeh, una cosa che non mi piace a questo gioco Eeeh, tipo qua, sui sassi Eeeh, sui sassi perché, ecco, ecco, non potete salire Ovviamente io pensavo in qualcosa, magari fa qualche animazione che sorrampica Non so, sarebbe più coinvolgente e più tattico, diciamo, per ricerchini anche Eeeh, farsi un appostamento sui bellissimi sassi Eeeh, sparo, sparo, arrivano gli spari Eccolo il nemico Questo ci fa, questo ci fa Il corpo si è spabolato a mille pezzi Ammio Dio Ok, ci ha spabolato Eeeh, riprendiamo a giocare Mancano 4 minuti e 45 secondi Eeeh, potete vedere Donato, oh, oh Tanto uomo Qua si killa Devo ricaricare 5 minuti Che sta andando il video, ecco Comunque, sono tempi che non vi interessano Spero che Se state ancora guardando il video adesso Sono stato coinvolgente abbastanza Eeeh, vi invito, eh Vi invito Anzi, dovete farlo d'obbligo Dove migliorare, dove peggiorare Cosa fare Qualcuno dice Eliminanti Proprio da Youtube Cioè Non è Non c'è anche quello No, niente Mi ha aiutato un po' a migliorare 5 di più Eeeh Mi fa sempre piacere Insomma Infatti faccio un video Per questo canale Perché comunque Forse mi riesce anche a Dare una Uno Una spinta Diciamo Per Migliorare Eeeh Come dire Sponsorizzare un po' di più Il mio canale Speriamo Sempre se Me la accetti No Me la accetta Oddio Sono un po' Farlo un po' male Perché comunque Cioè Non ho ancora Molta Confidenza Con Tutto questo pubblico Che magari non so neanche chi sono Quindi Si può Cos'è Vabbè Eeeh Niente La partita sta continuando Eeeh Ormai Sta per finire Ci ha appena fatto Ragazzi Rientriamo Comunque Tutto sommato Il multiplayer Di questo gioco Non è male Not bad Diciamo Eeeh Si Ci sta Ci sta Poi Black Ops 2 Manca a sé fare video E Io non lo possiedo Black Ops 2 Forse lo prendo Forse no Perché Non è che mi ispira molto Poi Black Ops 2 Ormai C'è Ce l'hanno ormai Il 90% Delle persone Quindi E' un po' Vabbè Preferisco Battlefield Ecco Con la serie lì E Mi convoglio di più Forse perché Non lo so Dunque Dal 2008 Ho uscito Battere un po' di due Se non sbaglio E' sempre una serie Che mi ha appassionato Eeeh Niente Siamo ancora qua Ho parlato Per Quanto 7 minuti 8 minuti Quel che l'è Spero che Se state ancora Bordando il video Grazie Grazie davvero E mettete mi piace Perché a questo punto Se l'avete seguito Adesso Mi piace ci stare Questa palese Eeeh Ho visto il nemico Ma non lo trovo più Squa Squa Proprio Mago Terra No Proprio 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 Eeeh E' andato Oh qua ce ne sarò Uno Niente Che dire Siamo morti Ragazzi Stam facendo una partita Veramente squalida Ti costiamo Perché Non voglio assumermi Io tutte le colpe La colpa è anche un po' Vasta Perché comunque A fare i video Devi essere concentrato Sia su quello che devi dire al video Perché ovviamente Sono le prime volte E sia sulla partita Non Non dico di essere un pro gamer Dico di essere un nabbo Però comunque Oh Mannate Però comunque Me la cavo abbastanza Diciamo Poi vabbè Vedo che c'è anche gente peggio di me Ma non mi interessa L'importante è divertirsi Guarda ci sta rosiche Ragazzi Guarda adesso Manca un pezzo di legno No Comunque No Siamo già in più Quindi ci divertiamo ancora Come prima Ehm 46 secondi 45 44 secondi Alla fine Di questo video Ehm Quindi Niente Voglio Fare le ultime chili Ehm C'è Equilibrata sta partita Se ci pensate bene Io sono il nabbo L'unico nabbo della mia squadra Penso No vabbè Non lo so Ehm Però comunque È abbastanza equilibrata Ehm Penso che l'ha fatto il 6 Sto Sto Gestione Di I giocatori Però Vabbè Sarà fatto lui Meglio ancora Non Non conosco ancora bene Come funziona il gioco Perché ovviamente Ok Venita Comunque Perché ovviamente Sono da poco Ehm Niente Volevo Ringraziarvi per aver visto il video Vi invito a iscrivervi al mio canale Sempre se vi va E Supportate la Tours Network Perché davvero Sono gentili tutti quanti Gli amministratori Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti